Vienna Ensemble è un programma che ospita il player Vienna Instruments, Vienna Instruments Pro, Vienna Imperial, Plugins Vienna Suite, Vienna Suite Pro e WSTE Plugins di terze parti. Vienna Ensemble lo si può scaricare gratuitamente dal sito di Vienna Symphonic Library, mentre la versione di Vienna Ensemble Pro la si può scaricare dal proprio account solo dopo l'acquisto. Vienna Ensemble Pro viene venduto con tre licenze, in modo che lo si possa utilizzare attraverso il protocollo di rete fino a tre computer slave e uno master. Verrà poi gestito tramite la Dove che si preferisce utilizzare. Se viene utilizzato in computer differenti, ogni computer dovrà necessariamente avere una chiavetta e-licenser. Utilizzando il protocollo di rete, il software non necessita di una scheda audio per ogni computer. Vienna Ensemble e Vienna Ensemble Pro possono essere comunque utilizzati anche su di un solo computer, collegandoli alla Dove. È possibile utilizzare contemporaneamente sia la versione a 32 bit che a 64 bit. Una volta avviato Vienna Ensemble o Vienna Ensemble Pro, si apriranno queste finestre. La prima differenza che si nota è che Vienna Ensemble Pro ha due pulsanti che ci permettono di creare da una a più istanze per inserire i VST, mentre in Vienna Ensemble l'unico modo per aprire le istanze è tramite la Dove. Scegliendo Vienna Ensemble si collegherà automaticamente all'istanza, mentre per collegare l'istanza Vienna Ensemble Pro alla Dove, apriamo nella Dove il plugin Vienna Ensemble Pro e clicchiamo su Connect. Ora la Dove è in grado di comunicare con Vienna Ensemble e Vienna Ensemble Pro. In alto a sinistra si trovano i pulsanti per disattivare o attivare la finestra selezionata. Il simbolo del Play avvia o ferma la Dove, mentre l'icona successiva crea un nuovo progetto, cioè una nuova istanza, sostituendola con quella aperta. Il simbolo a fianco apre il progetto precedentemente salvato e il simbolo del dischetto salva l'istanza selezionata. Di seguito apriamo il pannello delle impostazioni. Le icone successive di Vienna Ensemble Pro non le troviamo in Vienna Ensemble. Servono per attivare la memorizzazione, svuotare o ripristinare la RAM, dai campioni non utilizzati delle articolazioni caricate. L'utilizzo di questa possibilità, Vienna Ensemble Pro lo applica a tutti i VST di Vienna Instruments e Vienna Instruments Pro, ma non ai VST di terze parti. Con il simbolo del diapason possiamo impostare una frequenza di diapason diversa per tutti i Vienna Instruments e Vienna Instruments Pro caricati nell'istanza Vienna Ensemble Pro. Di seguito la freccia con la scritta MIDI permette di far selezionare in automatico l'instrumento corrispondente al canale MIDI che stiamo programmando nella Dove. Il pulsante MIR e MIR-X sono presenti sia in via e in via e in via e in via e in via. In Vienna Ensemble che in Vienna Ensemble Pro, ma solo se stati acquistati o in versione demo. Se attiviamo il pulsante MIR permette di inserire Vienna Instruments o Vienna Instruments Pro o VST di terze parti direttamente dentro MIR Pro. Con l'icona attivata la colorazione diventerà rossa. In questa modalità, quando caricheremo le librerie di Vienna, il nome della libreria caricata si imposterà automaticamente. Con MIR-X possiamo usufruire di una serie di impostazioni di default preparati dagli sviluppatori. L'icona successiva con il simbolo di un'antenna ci permette di non perdere l'istanza se cambiamo progetto nella Dove. In Vienna Ensemble, se clicchiamo due volte su GoPro, ci apre automaticamente la pagina web di Vienna Ensemble Pro per poter proseguire con l'eventuale acquisto. In basso a sinistra le icone ci permettono di inserire Vienna Instruments Pro, Vienna Instruments, Vienna Imperial e VST di terze parti. In Vienna Ensemble, però, è possibile utilizzare solo Vienna Instruments, Vienna Instruments Pro e Vienna Imperial, ma non VST di terze parti. Il microfono aggiunge canali audio. Questo potrebbe rivelarsi utile in caso si volesse inserire delle tracce audio dentro MIR-O o comunque gestire l'audio all'interno di Vienna Ensemble o Vienna Ensemble Pro o mixare tracce audio con Vienna Ensemble o Vienna Ensemble Pro. Il simbolo più aggiunge canali bass e il cestino cancella il canale selezionato. L'icona a fianco restringe i canali, visualizzando solo il nome. È particolarmente utile quando si hanno tanti strumenti. È possibile aggiungere canali anche con il tasto destro. MIR-PRO Room Tone inserisce un canale con il fruscio dell'ambiente caricato in MIR-PRO, potendo dosare così la quantità di fruscio desiderata per rendere ancora più naturale l'effetto di esecuzione dal vivo. In ultimo, in Vienna Ensemble Pro è possibile assegnare delle automazioni ai Channel Strip, in modo da controllarli dalla Dove in tempo reale. Grazie a tutti. Grazie a tutti.